Tornano alle urne oggi la Mezzeterme, Castrovillari e Gioia Tauro, ovvero i comuni che domenica 31 maggio non sono riusciti a decretare chi governerà per i prossimi 5 anni. Si va così al ballottaggio, circa 100.000 votanti si vota fino alle 23. Alla Mezzia, a contendersi la poltrona di sindaco, sono l'avvocato Paolo Mascaro e il medico Tommaso Sonni. Paolo Mascaro, ex presidente della Vigor La Mezzia, è forte del suo quasi 42% toccato durante il primo turno, ben 16.475 le preferenze raccolte, mentre 9 erano le liste che lo affiancavano. Ora, a quella che è la sua accordata tradizionale, si è affiancato anche Fratelli d'Italia, che al primo turno aveva preso il 2,06% di consensi. Paolo Mascaro lo aveva detto sin dall'inizio della sua campagna elettorale che non avrebbe fatto apparentamenti e così è stato, almeno ufficialmente. Stessa cosa per Tommaso Sonni, rappresentante di tutto il centro-sinistra, che non ha legato con altri partiti. I rumors fino alla fine hanno prospettato l'ipotesi di un accordo con Pasqualino Ruberto, uscito sconfitto dalla competizione con il 18% di voti. Troppo poco per superare il turno, ma abbastanza da fare gola a entrambi i competitors nel ballottaggio.